Un parcheggio come segno tangibile della buona amministrazione. Umberto di primio si dice soddisfatto di un'opera ottenuta in un periodo nel quale i sindaci sono chiamati ad essere manager, procacciatori di fondi e non togliere servizi ai propri cittadini. Ci sono opere che hanno soltanto abbellito, se vogliamo sminuirle perché appartengono alla sfera dell'estetica, ma ci sono opere utili come quella che stiamo inaugurando questa mattina, che danno in una zona importante la possibilità di avere parcheggi, ma io dico anche che è un parcheggio al servizio di un'area archeologica che deve assolutamente decollare, che è quella delle terme romane. Cinque anni di amministrazione a Chieti in vista delle prossime elezioni stila un resoconto degli anni della spending review tra emergenze e tagli della spesa. Noi porteremo in dote per farci giudicare le cose che abbiamo realizzato, i 43 milioni di lavori, i 18 milioni di interventi sul sociale, questi sono i numeri dell'amministrazione di primio e poi porteremo le idee sulle quali riteniamo di poter continuare non soltanto a governare la città, ma soprattutto a offrire un futuro a questa città. Abbiamo fatto in modo che le famiglie, le imprese, coloro che hanno una situazione di disagio, potessero avere un'attenzione in più da parte del comune anche sotto il profilo dei tributi e quindi delle tasse comunali. Poi risponde alle polemiche in corso, quelle dell'opposizione che critica gestione e rendimento della sua amministrazione. La opposizione la mettiamo alla porta e invece le cose che facciamo le regaliamo alla città. Questa è la logica che per cinque anni ci ha animato e che continua ad animarci. È chiaro che l'opposizione fa il suo mestiere, non lo fa molto bene in città perché sono soltanto dei commedianti della politica. Noi cerchiamo di fare invece le cose di cui la città ha bisogno. In questi anni abbiamo intercettato finanziamenti europei che mai erano arrivati così copiosi in città e questi finanziamenti europei sono stati utilizzati soprattutto per realizzare le opere che hanno migliorato la qualità della vita della nostra città.